Gli inquirenti non avevano dubbi, sentivano che da qualche parte ci fossero quelle presunte prove che stavano cercando dal 20 gennaio, quando a Gavi si è sollevato un terremoto politico che nei giorni successivi ha portato dapprima alle dimissioni di otto consiglieri di maggioranza e successivamente al commissariamento del Paese, attualmente eretto dal vice prefetto aggiunto Maria Clara Callegari, che lo amministrerà ordinariamente, sino alle nuove elezioni previste la prossima primavera. L'altro giorno, sul vetro della fotocopiatrice in municipio, evidentemente dimenticato dopo averne fatto una copia, giaceva un foglio dove nero su bianco erano scritte quelle che, secondo la procura, sarebbero le motivazioni che a fine dicembre avrebbero spinto alle dimissioni da sindaco Rita Semino, classe 1934, votata da 1600 gaviesi, che probabilmente in lei vedevano allungare il braccio dell'amministrazione albano, non più ricandidabile, a primo cittadino per avere già espletato due mandati. Un foglio nel quale l'Asemino avrebbe scritto di sentirsi un po' ciaccata e stanca, e quindi in pratica non più in grado di sostenere il suo incarico. Una motivazione che, secondo la procura di Alessandria, sarebbe la prova regina di come l'Albano avrebbe fatto pressione sull'Asemino per farla figurare incapace nel suo ruolo, ma c'è anche chi ipotizza di più, ovvero che quella lettera, mai protocollata, sarebbe stata scritta proprio su pressione dell'indagata. Che in paese da tempo circolasse la voce che Nicoletta Albano volesse andare a nuove lezioni non è un mistero, e che l'amicizia fra le due donne si fosse raffreddata, se non addirittura congelata, è un altro fatto certo, ma resta evidente che si tratta comunque di una brutta storia, nata e cresciuta fra gli umori e le fenditure di un paese per lo più benestante, dove i genovesici vanno per svernare, incastonato fra i preziosi vigneti del vino cortese, tanto decantati anche da Mario Soldati. Gli abitanti, come tagliati di netto da un'accetta, sono divisi in due, c'è chi difende l'Albano, dandole il merito di avere fatto molto per Gavi, e c'è invece chi parla addirittura di una sorta di atteggiamento mafioso, che l'ex vice sindaco avrebbe adottato per tenere a bada l'assemino, sua testa di legno e dunque sindaco solamente di facciata. Al vaglio degli inquirenti la convinzione che l'indagata spingesse per far dichiarare da un medico l'assemino incapace, con la promessa in cambio dell'assunzione di un nipote. Tutte voci ribattono i legali, pronte a dimostrare che si tratta solo di prove inconsistenti.